Buongiorno a tutti, inauguriamo il Natale Apriliano 2013 con la prima iniziativa legata al tema del Cioccolato, studiamo una nuova iniziativa che raccolta il favore della cittadinanza, dei grandi e piccini. Io lascio la parola a Guido Navoli, uno degli organizzatori che ci mostrerà meglio nel dettaglio l'iniziativa. Grazie, siamo qui con la prima edizione del Dutto al Cioccolato con espositori provenienti un po' da tutte le taglie, abbiamo la Sicilia, la Merate, il Soave, la Vieti, per far partire questa prima tappa di questa che ha messo sul cioccolato che si basa non solo sul cioccolato come prodotto in vendita ma come laboratorio e come arte artigiana per poter lavorare e creare questo nobile prodotto. Infatti noi abbiamo dei laboratori didattici sia la mattina che il pomeriggio che vanno dalle 11 a mezzogiorno la mattina e dalle 16 alle 18 il pomeriggio. Sono laboratori soprattutto per bambini dove però anche i grandi possono apprendere nozioni importanti di questo dolcissimo e gustosissimo prodotto. Ringrazio il Comune di Aprile, ci ha ospitato con grande voglia e grande partecipazione e ci auguriamo che da oggi fino a domenica ci sia tanta gente. Grazie a voi, grazie per l'impegno, quindi ribadiamo l'invito soprattutto ai più piccini per i laboratori che ci saranno la mattina alle 11 e mezzogiorno e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Buona manifestazione, grazie a tutti. Che cioccolato vi piace? Latte! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.